L'economia italiana migliore si profila il taglio di una parte dei trasferimenti previsti da Next Generation EU. L'allocazione dei trasferimenti sarà ricalcolata al più tardi il 30 giugno prossimo. Tre le vie possibili, presentare un piano rivisto che prevede il trasferimento di altri fondi europei, utilizzare fondi nazionali, sottomettere un piano rivisto comprensivo di una richiesta di prestiti entro il 31 agosto 2023. È una buona notizia che l'economia di un paese come l'Italia vada bene, dicono dalla Commissione Europea. Non va dimenticato che lo scopo della nostra politica è che l'economia si riprenda.